Disturbo borderline di personalità Le migliori opzioni di trattamento Disturbo di personalità borderline è principalmente trattata con psicoterapia, ma il farmaco può essere aggiunto. Il medico può anche raccomandare il ricovero in ospedale se la sicurezza è a rischio. Il trattamento può aiutare a imparare le competenze per gestire e far fronte con la sua condizione. Con il trattamento, si può sentire meglio con te stesso e vivere una vita appagante più stabile. Psicoterapia Psicoterapia, chiamata anche terapia della parola, è un approccio terapeutico fondamentale per il disturbo borderline di personalità. Il terapeuta può adattare il tipo di terapia per soddisfare al meglio le vostre esigenze. Gli obiettivi della psicoterapia sono per aiutarvi a Concentrarsi su di voi attuale capacità di funzionare Imparare a gestire le emozioni che si sentono a disagio Ridurre l'impulsività, aiutandosi osserva sentimenti invece di agire su di essi I lavori per migliorare le relazioni di essere consapevoli dei vostri sentimenti e quelli degli altri Ulteriori informazioni su disturbo di personalità borderline Tipi di psicoterapia che sono stati trovati per essere efficace includono Terapia comportamentale dialettica, DBT DBT può includere gruppo o terapia individuale progettato specificamente per il trattamento del disturbo borderline di personalità. DBT utilizza un approccio basato sulle competenze per insegnare come gestire le proprie emozioni, tollerare angoscia e migliorare le relazioni. Schema focalizzata terapia Schema terapia focalizzata può essere fatto individualmente o in gruppo. Si può aiutare a identificare bisogni insoddisfatti che hanno portato a modelli di vita negativi, che a un certo momento può essere stato utile per la sopravvivenza, ma come un adulto sono dannose in molti settori della vostra vita. La terapia si concentra su come aiutare a ottenere i vostri bisogni soddisfatti in modo sano per promuovere modelli di vita positivi. La terapia a base di mentalizzazione, MBT MBT è un tipo di terapia della parola che consente di identificare i propri pensieri e sentimenti in ogni momento e di creare un punto di vista alternativo sulla situazione. MBT sottolinea pensare prima di reagire. La formazione di sistemi per la prevedibilità emotivo e di problem solving, STEPPS. STEPPS è un trattamento di 20 settimani che coinvolge il lavoro di gruppo che incorporano i vostri familiari, gli operatori sanitari, gli amici o altre persone significative in trattamento. STEPPS è utilizzato in aggiunta ad altri tipi di psicoterapia. Psicoterapia transfert focalizzata, TFP. Chiamato anche la psicoterapia psicodinamica, TFP si propone di aiutare a capire le vostre emozioni e le difficoltà interpersonali attraverso il rapporto che si sviluppa tra voi e il vostro terapeuta. E quindi applicare queste informazioni per situazioni in corso. Gestione psichiatrica generale. Questo approccio terapeutico si basa sulla gestione dei casi e si concentra sul dare un senso di momenti emotivamente difficile considerando il contesto interpersonale per i sentimenti. Può integrare i farmaci, i gruppi, l'educazione familiare e terapia individuale. RICOVERO. A volte, potrebbe essere necessario un trattamento più intenso, in un ospedale psichiatrico o clinica. Ospedalizzazione può anche mantenere a salvo da autolesionismo o di indirizzo pensieri suicidi o comportamenti. MODO STABILIZZATORI. Un'altra classe di farmaci, indicato come stabilizzatori dell'umore, ha dimostrato di ridurre significativamente alcuni sintomi in pazienti con disturbo borderline. Questi sintomi comprendono impulsività, rabbia, ansia, umore depresso, e il livello generale del funzionamento. La dimensione di questi effetti terapeutici varia da moderato a molto grandi. Molte persone con un disturbo borderline di personalità, di BP, sono trattati da gruppi di comunità di salute mentale, CMHTS. L'obiettivo del CMHT è quello di fornire supporto e trattamento giorno per giorno, garantendo al tempo stesso si ha l'indipendenza il più possibile. Un CMHT può essere costituito da Lavoratori sociali Comunità infermieri di salute mentale, che hanno una formazione specialistica in condizioni di salute mentale Farmacisti Consulenti e psicoterapeuti Psicologi e psichiatri Terapia comportamentale dialettica, DBT Terapia comportamentale dialettica, DBT, è un tipo di terapia specificamente progettato per il trattamento di persone con disturbo borderline. L'obiettivo di DBT è quello di rompere questo ciclo con l'introduzione di due concetti importanti. Convalida, accettare le vostre emozioni sono valide, effettiva ed accettabile. Dialettica, una scuola di filosofia che dice la maggior parte delle cose nella vita sono raramente bianco o nero, e che è importante essere aperti alle idee e opinioni che contraddicono il proprio. Medicazione I farmaci sono spesso utilizzati se si dispone di un'altra condizione di salute mentale associato, come ad esempio Depressione Disturbo d'ansia Disordine bipolare Stabilizzatori dell'umore o antipsicotici sono talvolta prescritti per contribuire a sbalzi d'umore, alleviare i sintomi psicotici o ridurre i comportamenti impulsivi. O potrebbe anche trovare altri trattamenti parlando ti può aiutare, ad esempio Terapia cognitivo comportamentale, CBT Un trattamento che ha lo scopo di aiutare a capire come i vostri pensieri e le credenze influenzano i tuoi sentimenti e comportamenti Nelle sessioni di terapia si impara a sostituire i modelli di pensiero negativo con quelli più positivi. Vedere le nostre pagine su CBT per ulteriori informazioni Cognitive Analytic Therapy, CAT CAT combina metodi pratici di CBT con un focus sul rapporto tra voi e il vostro terapeuta Questo può aiutare a riflettere su come ti relazioni con le persone Lei compreso, e perché questi modelli sono sviluppate Altre terapie parlanti Si potrebbe trovare altri trattamenti parlando utili, come terapia psicodinamica, la terapia interpersonale o di arteterapia